Guardando a Maria, imparando da lei ad essere mamme, ad essere mamme come Maria noi stiamo ripercorrendo l'arte dell'amore l'arte della maternità, perché è un'arte anche oltre che un dono, oltre che una vocazione stiamo ripercorrendo degli archi siamo partiti dall'arco della tenerezza una madre deve essere tenera Maria è la madre della tenerezza e da Maria è possibile apprendere anche la tenerezza poi Maria che ci educa ad essere mamme che si prendono cura dei propri figli che cosa vuol dire prendersi cura dei propri figli? Maria è colei che ci aiuta a comprendere bene il significato dell'educare i propri figli e qualcuno dirà come mi è stato già scritto ma come si fa a parlare di cura dei figli se uno non si prende cura dei figli? è verissimo ma io non sto parlando di me o di altri ma sto parlando di Maria che si è presa cura del suo figlio e si prende cura di ciascuno di noi ancora oggi ma le mamme sono sempre quelle che poi aiutano un titolo che la devozione cristiana da Maria è Maria aiuto dei cristiani Maria aiuta io sono convinto che Maria aiuta tutti gli uomini anche quelli che non la riconoscono come mare di Gesù è come mare nostra una madre aiuta non solo i propri figli aiuta tutti i figli ma torniamo a Papa Francesco e vediamo lui che cosa pensa di questo aiuto materno una buona mamma aiuta a prendere le decisioni definitive con libertà ma che cosa significa libertà? non è certo fare tutto ciò che si vuole libertà non significa per così dire buttare tutto ciò che non piace dalla finestra no, quella non è libertà la libertà ci è donata perché sappiamo fare scelte buone nella vita non puoi commentare queste parole perché sono chiare, sono vere, essenziali e riassumono veramente che cosa vuol dire che una mamma aiuta i figli a prendere decisioni con libertà attenzione aiuta i figli ma non li prende lei per lui fino da una certa età la madre aiuta i figli a prendere decisioni con libertà quella libertà che ti porta a vivere e a fare tuo la bellezza e la bontà della vita ci vediamo domani pari più tv dritto al cuore ciao a tutti grazie a tutti